Ciao ragazzi e ben ritrovati ancora in mia compagnia. Oggi vi presenterò un workout per addominali. Gli esercizi che farò vedere all'interno di questo allenamento saranno degli esercizi di pilates, quindi dovranno essere seguiti con molta concentrazione e nel miglior modo possibile. Io andrò sempre a impostare il timer su 30 secondi di allenamento e 10 secondi di pausa. Non ci occorre niente se non il nostro tappetino. Io vi mostrerò un unico round, però voi dovete essere bravi a riuscire ad eseguirne almeno due. Se tutti i giorni effettuerete due round, i risultati non tratteranno ad arrivare. Siete pronti per allenarvi? Andiamo pure! Grazie a tutti! 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 a tutti!